Doppio compito per lei oggi. Doppio compito per lei. Doppio compito per lei. Doppio compito per lei oggi. Vi ricordiamo che le finali saranno trasmesse il giorno 24, ora gli orari non me li ricordo di preciso ma avremo tempo poi. Assolutamente. Avrete tempo anche di leggere tutte le informazioni necessarie sulla 7D, quindi in televisione, in chiaro. Tappa di Milano, l'ultima tappa conclusiva.